buon pomeriggio amici di sport me per un nuovo appuntamento sportivo quest'oggi va a scena il campionato under 15 provinciale girone b al campo sportivo buon anno si affrontano riviera nord e gescal ci siamo quasi per il fischio d'inizio del direttore di gara squadre stanno facendo il loro ingresso in campo si parte recupera palla in questo caso il riviera con siracusano poi buonasera ancora buonasera insiste entra nella di rigore buonasera calcio col destro borgosano poi arriva la rosa può rispondere ancora riviera la rosa per siracusano siracusano calcia male punizione riviera finta di siracusano calcia la rosa col destro la fa sua borgosano punizione gescal lupi franciosi ancora franciosi avanza vuole fare tutto da solo due dribbling poi calcia da lontanissimo non c'entra la porta termina qui il primo tempo nella seconda frazione prova ad attaccare fin da subito il riviera nord con santoro ancora santoro la tocca siracusano poi sempre santoro col destro prova a mandare in profondità la rosa la rosa la tu per tu col portiere calcia borgosano para 1 2 che si chiude con la rosa la rosa se la sposta sul destro risponde presente borgosano esce siracusano dentro tuzza corner riviera va direttamente in porta sul fondo prova qui a liberarsi tuzza pallone che schizza dalle parti di salemi sfera che termina sul fondo riconquista ottimamente buonasera buonasera guadagna punizione interessante questa punizione va la rosa col destro sul primo palo e sblocca il match la rosa riviera nord 1 gescal 0 grande gol di la rosa esce con il numero 21 stracuzzi dentro costanzo dentro anche morano fuori barreca punizione gescal va lupi col destro direttamente in out fuori la rosa dentro bel fiore dentro anche buta e sorrenti prova a liberare bombaci contatto tuzza mancuso per l'arbitro e calcio di rigore non ha avuto dubbi il direttore di gara dal dischetto fa franciosi che calcia alto curatola alza questo campanino poi franciosi franciosi per ferlazzo ancora ferlazzo avanza col destro ferlazzo sul fondo non c'è più tempo arriva il tripice fischio del direttore di gara vince di misura il riviera nord grazie alla rete di la rosa grazie a tutti